Ah però, ho ho, ponete un cervello e un cuore, una, 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 una giungla soffereniare e un piatto di ritorno, uh, chiedete molto a un mago, non so se mi è possibile aiutarvi, uh, che faccia triste a finire, uh, uh, già bene, facciamo partire, sono disposta a aiutarti. Svegliati paparino, svegliati, è tempo di svegliarti, devi alzarti, beh ma guardati Sandy, gli hai fatto vedere che sei il migliore e il più astuto di tutti quelli presenti sulla spiaggia. Ultima tartaruga, sono contenta di vederti. Se l'aiuterai, buone cioccolato ci ripagherà. Bello, vero? Fantastico direi, ma come fai a guidarlo? Guidarlo? Oh, 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 oh. Oh!